buongiorno oggi vi presento come fabbricare semplicemente un portaspillone molto pratico e molto efficace un'alternativa ai portaspilloni che bloccano lo spillone così fisso e potrebbe rovinare la muta dunque prendere una fascetta di lunghezza circa 30 centimetri larga 50 52 millimetri di spessore 2 mm tipo da camera d'aria praticare all'estremità un foro di 6 mm di diametro e passarla nel piombo opposto allo spillone ecco verso la fibbia la parte che esce va verso la fibbia così che si mette lo spillone così si tira semplicemente e rimane bloccato in maniera molto affidabile ed efficace e rimane morbido sì che non rovina la muta non rimane fisso